buongiorno a tutti ragazzi qua sono Mattia è mio amico e staremo per fare la sfida con il marshmallow che praticamente consiste di mettere più marshmallow possibili in bocca e metterlo in bocca uno a uno e dire marshmallow buona visione comincio io come ti è io? tec un po' è? uno? 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 un marshmallow piccoli con me niente 2 last mello ma porca travi 3 last mello 4 last mello 4 last mello 5 last mello 5 last mello 6 last mello 6 last mello 9 last mello ci stiamo avvicinando al momento di chiusura 9 last mello 5 last mello 6 last mello 7 last mello 3 1 1 1 Iniziamo Quanto sei? Ma non ci sono Ne ha mangiato uno sto Sto cappellone Allora Cominciamo la sfida Un marshmallow Marshmallow Ma guarda che non lo devi mandare Due marshmallow Due marshmallow Marshmallow Tre marshmallow Tre marshmallow Quattro marshmallow Quattro marshmallow Quattro marshmallow Quattro marshmallow Stai prendendo quelli più che quelli però Marshmallow Quattro marshmallow Sei marshmallow Sei marshmallow Dai Forse non ci riesci a battere i miei orecchi Individuici Marshmallow Sette marshmallow 8 marshmallow 8 marshmallow 8 marshmallow No 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 Dimi marshmallow No signor! Si capisce, ok, 9, si è buono E' buono, è buono, è buono Non si è buono Non si è capito bene Dimmi di togliere le dita dalla bocca Dei togliere le dita Dei togliere le dita dalla bocca Eh, vai Che merda Va bene Siamo a 10 E vabbè, ho vinto io E iscrivetevi Commentate E mettete un pollice in su Ciao E' il prossimo video